E' uno sconto di 50-60 euro all'anno per ogni singolo utente, che saranno gli utenti residenti in modo permanente in Alto Adige. Potremmo mettere a disposizione un impianto che comunque sarà già perfetto per le Olimpiadi perché lo stiamo ristrutturando proprio in questo momento, in questi mesi si stanno già facendo i lavori perché, come ben sapete, Anterselva ha ottenuto la possibilità di ospitare i campionati mondiali di biathlon nel 2020 e perciò avremo già una struttura che è perfetta. Anterselva